C'è chi dice che almeno una volta nella vita si dovrebbe vedere il mare nel rispetto e nella tutela. Ognuno di noi può fare qualcosa, poi c'è chi ci protegge e preserva l'ambiente marino. Sono le donne e gli uomini della Guardia Costiera. In particolare oggi, nella sala giunta del Comune di Pescara, il Sindaco Masci e l'amministrazione comunale hanno voluto tributare un riconoscimento alla base aeromobili nucleo-aereo e sezione volo-elicotteri della Guardia Costiera. Un modo, dice il primo cittadino, per dire grazie a tutti loro. Perché la Guardia Costiera svolge un compito essenziale nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra regione e certamente riesce ad arrivare in ogni situazione di pericolo che riguarda il mare. Quindi necessariamente noi riteniamo di dover riconoscere questa attività che viene svolta sul nostro territorio con una pergamena che attesti la qualità del lavoro e comunque sia anche da ringraziamento per l'attività svolta e per l'impegno di tutti coloro che sono sempre sul nostro territorio ad aiutare chi ha bisogno. Il comandante capitano di fregata Andrea Kenda e il direttore marittimo capitano di Vascello Fabrizio Giovanone raccontano le emozioni che vivono quotidianamente facendo anche un bilancio di questa estate a Pescara. Un bilancio estremamente positivo perché a fronte di tutto l'addestramento e di tutta l'attività fatta solo a livello locale abbiamo potuto dare soccorso completo a 13 persone in rischio e in pericolo di vita ma le altre attività relative poi al supporto al corpo per ricerca e soccorso su tutto il resto del litorale italiano partecipiamo anche in collaborazione con gli altri mezzieri della base di Catania al controllo delle frontiere esterne per quelli che sono i flussi migratori del canale di Sicilia e del Mar Ionio. Sì, è sicuramente un piacere e un grande orgoglio ricevere questo riconoscimento dal comune di Pescara la Guardia Costiera e il nucleo aeromobili è intimamente legato all'Abruzzo ed è un sentimento e un amore ricambiato perché il corpo investe e vuole investire ancora di più molto nell'Abruzzo e in Pescara e nello sviluppo della componente aeromobili. Infine il consigliere comunale Armando Foschi che osa? Sì, un riconoscimento degli uomini della base aerea della Guardia Costiera di Pescara che quotidianamente provvedono sia per la tutela della salvezza degli uomini e sia per la tutela ambientale. Pescara vive sul mare e il mare è una risorsa per pescare e per i pescaresi.